Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono Xyuder e ragazzi pass battaglia della season 10, lo vediamo insieme, una bella reaction per la prima volta L'ho appena preso, quello base come sempre, 50 punti, esperienza, abbiamo il 60% di punti esperienza per la prima Wow, catalizzatore, subito la prima skin, bella, bella Guardalo qua Lord X, guardalo qua, molto simile a Signore della Ruggine Sfide, pass, battaglia, ottieni tutto e chiudi, ce lo andiamo a vedere ragazzi Allora, a livello 2, lo spray del rocket per il pass battaglia free, 10 punti per cento e il 30% di punti per il prossimo pass della season 11 Livello numero 3, adesivo del cavaliere rosso, 100 V-Bucks e subito a livello numero 4, bello, il, lo stand, il, scavata caricamento Subito la prima camo, bellissima, mimetica e mot, tanta roba, standard uovo di dinosauro e popcorn What is this? What is this? Andiamo avanti, a livello 7 ragazzi, secchio di ciarpame Un deltaplano molto molto figo, ci può stare A livello 8, l'adesivo della bomba ballerina e lo spray di ala gelida, 10 punti per l'incremento Che figata Dai cos'è bello raga, schermata di caricamento, poi 200 V-Bucks Il duello finale, io non ho le musiche sotto, quindi easy le sentirete voi Stendardo del cavaliere della season 2 Putrido pantano Oh mio dio Putrido pantano, calmi, calmi Ma cos'è, ma cos'è Livello 15, distruttori cosmici, bellissimo Con i colori, oh, corsa in centro Bello per ricordarci la sfida che abbiamo fatto Poi abbiamo il 10% di incremento Adesivo del crack shot e Stendardo del rift, altri 100 punti Fuoco vs sghiaccio, mi piace Tema season 7, mi piace, mi piace La prima scia ragazzi, fulmine della fenditura Pozzo senza fondo Questo stile è troppo figo Nuova copertura, cavalleresco ovviamente a tema Del cavaliere rosso, arriva pinnaco tecnica Bella con 6 stili ragazzi 1, 2, vediamoli tutti, vediamoli tutti 3 4 5 Vediamo il sesto Avanti ancora ragazzi, livello 25 Adesivo popcorn, livello 26 Spray del frafallone con Stendardo del cubo Avanti al livello 28 Kitsune ragazzi, che abbiamo Degli stili per Kitsune Li avevo fatti vedere Oggi nella Nella Sgasavar Tante coccole ragazzi Nuova schermata di caricamento Bellissima Adesivo del salvavita E deltaplano gratuito A la spray Che storia Nuovo balletto Cos'è? Questo lo voglio con Cracabella Questo lo voglio provare con Cracabella Troppo bello Avanti ancora Livello 32 Punti esperienza Livello 33 Stendardo Dell Dell'astronauta Livello 35 EQ Una skin per le armi Animata 36 Derpando sotto le stelle Che cos'è? Che cos'è? 37 Lancio della bottiglia Penso che Il bottle flip LOL È un giocattolo Sparco il specialist raga Season 2 Livello 38 Abbiamo la sacca spinata Che ha 4 stili Ma perché? Ma perché? Ok avanti poi Il quinto stile sarà viola Mix maestro Questo è il deltaplano Del Del DJ lama Livello 41 Affettato Che storia 42 Lo standardo del lama 43 Vai con la musica 44 Il peperone splendido E la secondo stile di Kitsune Al 45 Che storia Le bolle di sapone Al 46 E wow Bellissimo Bellissimo Questo Bellissimo Yonder Con 6 stili anche lui ragazzi Vai Yonder Numero 2 Vediamo il numero 3 Bellissimo Bello Il più bello per adesso Minchia Freddy Mercury dei poveri Livello 5 Freddy Mercury Di ancora più poveri Elvis Presley Andiamo ragazzi Come on Rapide rischiose raga Rapide rischiose Con il poster Che c'era di Omega Contro Carburo Oggi classico Tanto io non sento Il lama Unicorno Si sei proprio Tu sei Sei tu ho detto Ancora V-Bucks Questo è sicuramente Preso da qualche quadro Ma io non so cosa sia Bombardieri Un'altra Bottle Flip Però diverso Qua era per chiudere un buco Yonder Senza maschera ragazzi Il DJ lama Un paio di occhiali Easy Falce Scintilla A livello 55 Livello 57 Bellissimo Schermata caricamento Con il Mai più Rune Kevin Ancora un ricordo Della season Con Kevin Spade incrociate Come adesivo V-Bucks Kevin Una copertura animata Bellissima Anche questa E qua ci sta Molto anni 80 Molto vintage Forse non lo conoscete Ma questo è un Questo è preso dagli anni 80 Vabbè Andiamo avanti Wow mappa Pinnacoli Mi torna il vecchio Pinnacoli Piango eh Mi torna il vecchio Pinnacoli Piango Potenziamento Ragazzi Tanta roba Per Il driftboard La skin Con il driftboard Passerei a livello 64 Dove non c'è nulla di interessante Livello 65 Kitsune nero Il murale Crackshot Ci sta un botto Ci sta un botto Livello 67 Overlay Con Numeri che cambiano Livello 68 Due cappelli da cowboy Livelli 70 Scintilla suprema Ragazzi Va a riprendere Molto 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 La sparkle specialist Della season Numero 2 ragazzi Quattro Bellissimo L'ultimo stile Ci sta Colpo stellare È il Il backpack Della skin Nuova Massacro muffito Che figo Il meteorite Andiamo al 74 Wow Calca fiamma Che figo Ed eccolo qua ragazzi Scintilla suprema Con taglio A caschetto Questa è una porcata Livello 77 Il pilota pixel Con due stili È l'astronave Di space invaders Raga è troppo bella È di asteroid Ci sta un botto Ok Livello 78 La cassa No Cosa fa Bello Bello Ci può stare Ci può stare Grazie fili Giù le mani ragazzi Giù le mani Dai lama Livello 80 Livello 82 Celestiale La scia Livello 84 Avvoltoio Copertura per le armi Il double pump A livello 85 Livello 86 Il Schermato di caricamento Eruzione Livello 87 Il viaggiatore eterno Che fluttua Perché fluttua Il viaggiatore eterno Perché fluttua Wow Io are so Cool Avanti livello 89 Con Che figo Continua a mettere Le mot Dei teschi Livello 81 Sogni d'oro Schermato di caricamento Cavaliere nero Livello 92 Viaggiatore eterno Esploratrice Livello 93 Livello 94 Il cavalcaonde Fighissimo Al 95 Al acciaio Ce lo regalano Tanta roba ragazzi Del tapolo leggendario Siamo arrivati all'ultima Pagina Livello 97 Corsa al massimo Livello 98 I V-Bucks Yonder con la corona Al 99 E al 100 ragazzi Il cavaliere Ultima Che è veramente Meraviglioso Con tutti i suoi stili Guardalo Vediamo il quarto stile Molto carino Ma più belli gli altri Mamma mia Wow Ragazzi Questo era il pass battaglia Le skin sono fighe Le schermate di caricamento Ci stanno I balletti Sono tanta roba Grazie per aver guardato Questo video Noi siamo in live Ciao Non mi parte l'altro Non sto andando via Non sto andando via Grazie per aver guardato